ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono claudia questo è creativamente e oggi sono qui per realizzare insieme una sciarpa con la forcella guardate un po qui la lavorazione a forcella vedete questi intrecci e poi qui di lato sono andata invece lavorare all'uncinetto con l'uncinetto normale e poi ho concluso facendo le frange alla mia sciarpa e questo è il risultato finale io sono veramente super 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 soddisfatta mi piace da morire guardate questi intrecci sono semplicemente favolosi con le frange finali a me piace veramente tantissimo quindi spero che questo progetto piaccia anche a voi mi raccomando provate a realizzarla sia che sappiate già lavorare alla forcella e perché invece non l'ho ancora mai provata forse è l'occasione giusta per provare anche questo nuovo attrezzo intanto come vi spiegherò di seguito c'è proprio il link a un altro tutorial dove spiego passo passo come si esegue il punto base con cui appunto è lavorata questa questa sciarpa alla forcella quindi mi raccomando per chi non conosce questa tecnica della prima volta che utilizzo questo strumento guardate a guardarvi l'altro tutorial e sarete poi in grado di realizzare questa sciarpa io vi lascio il tutorial non aggiungo altro un bacione enorme ciao allora quello che ci occorre per realizzare questa sciarpa è come abbiamo capito innanzitutto una forcella che va regolata nei fori più grandi quindi in un sesto vedete che le due asticcelle sono infilate nei fori più grandi e non in quelli più piccoli va regolata appunto sull'apertura più ampia un uncinetto io uso un tre e mezzo con cui andremo a utilizzare la forcella e poi della lana che io utilizzo questa qui la lana montreal sono confezioni da pacchi sono confezioni di tre gomito di ogni pacco è una lana molto fine sfumata però bellissima ha dei colori stupendi io ad esempio adesso utilizzo il color porpora ma poi ce ne sono tantissimi altri lilla la giurro rosso il grigio veramente tanti altri e dobbiamo andare a realizzare tre strisce di forcella contenenti ogni striscia 305 asole quindi io ho già realizzato un altro tutorial dove vi faccio vedere il punto base della forcella come si utilizza appunto e a fare il punto base e noi queste tre strisce le andremo appunto lavorare a punto base quindi vi lascio in descrizione il link di quel tutorial andate a vederlo per chi non conosce non ha mai lavorato la forcella e una volta appunto capito la tecnica e come funziona dobbiamo appunto lavorare queste tre strisce appunto base da 305 asole quindi adesso non ve lo farò vedere ma vi lascio il link in rimando dove vi spiego appunto come fare per realizzare queste strisce che poi ci serviranno le andremo ad unire assieme e le utilizzeremo appunto per la nostra sciarpa quindi mi raccomando in descrizione trovate il link di questo primo tutorial vi ricordo come sempre che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.mercediamani.it però dato che questa settimana abbiamo superato i 10.000 iscritti sul canale youtube io vi ringrazio veramente di cuore ho deciso di premiarvi regalandovi se acquistate un pacco di lana montreal appunto sul sito e il pacco vi basta perché per realizzare la sciarpa col cappello che vedete nell'immagine di copertina io ho utilizzato due commutoli e mezzo quindi un pacco vi basta tranquillamente sia per realizzare la sciarpa che per realizzare il cappello come dicevo se decidete di acquistare un pacco di lana per realizzare appunto questo completo in omaggio avrete lo schema scritto per realizzare il cappello che è fatto tutto interamente all'uncinetto non niente forcella la forcella serve solo per la sciarpa il cappello l'ho realizzato tutto all'uncinetto non ho il video tutorial ma appunto per ringraziarvi del numero che abbiamo raggiunto su youtube di iscritti sul mio canale che continuate a seguirmi ho deciso appunto di regalarvi lo schema per realizzare anche il cappello sempre e solo se acquistate un pacco di lana ok quindi magari quando lo acquistate mi iscrivete sulle notte venditore che siete iscritti al canale eccetera e io vi regalerò lo schema allora dopo aver realizzato le nostre strisce da 305 diciamo punti chiamiamole pure punti che sarebbero ognuna di queste barrette qui vedete una due partendo dal fondo ad esempio così questa è la prima questa è la seconda la terza quindi abbiamo detto 305 barrette da entrambi i lati questa è la lunghezza che devono avere i nostri fili lavorati a forcella dopo aver realizzato tutte le strisce che ci occorrono ecco che adesso vi faccio vedere come andare ad intrecciarli per realizzare la nostra sciarpa allora prendiamo due strisce e le avviciniamo carichiamo dobbiamo intrecciare le due parti che si guardano ok quindi qui abbiamo la costina centrale e qui abbiamo la costina centrale noi dobbiamo intrecciare queste due parti che stanno all'interno delle due costine carico sul prendermi uncinetto e vado a caricare sull'uncinetto cinque 1 2 3 4 e 5 e le faccio scivolare un pochettino indietro sempre con lo stesso uncinetto vado a ne altre cinque dall'altra parte però 1 2 3 4 e 5 e vedete che abbiamo le due sequenze adesso con queste cinque di qua che ho caricato per ultime devo passare all'interno delle cinque che ho caricato per prima con l'uncinetto quindi prendete prendo queste cinque le allargo per bene così e ci faccio passare all'interno le altre cinque e poi lascio andare e vedete che ho il primo intreccio adesso quelle che mi ritrovo sull'uncinetto sono cinque asoline che ho caricato a sinistra adesso quindi vado caricare altre cinque a destra da questo lato 1 2 3 4 e 5 dopodiché passo con le cinque che ho caricato per ultimo all'interno delle altre cinque e lascio andare e vedete che qui si forma una trecciolina tengo le cinque che ho caricato a destra sull'uncinetto vado a caricarne altre cinque però a sinistra 1 2 3 4 e 5 in questo modo con queste cinque che ho appena caricato vado a passare all'interno delle altre cinque che già avevo sull'uncinetto così e poi lascio andare guardate un po questo è il motivo che vi si crea al centro adesso sempre tenendo queste cinque vado a raccantarne altre cinque dall'altro lato 1 2 3 4 e 5 e passo con le prime cinque all'interno delle altre 5 che avevo già così e lascio guardate il motivo adesso vado a raccantarne altre 5 di qua 1 2 3 4 e 5 e passo all'interno delle altre così proseguo in questo modo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti una volta intrecciato tutti ad essere arrivati in cima vedete che qui abbiamo il filo dove abbiamo tagliato che prima facevamo la nostra forcella Allora io sposto questo blocco che ho sull'uncinetto in prossimità qui delle maglie basse, mi infilo in un punto così all'inizio, prendo il filo e chiudo tutto come dovessi chiudere un lavoro all'uncinetto. Prendo questo filo qua che ho lasciato lì prima, vedete, e ho incastrato e fissato il mio ultimo intreccio e questo è il risultato, vedete che si intreccia in questo modo ed è veramente pazzesco, mi piace da morire. Adesso torno al fondo, da questo lato intrecceremo l'altra striscia uguale a questa, adesso però vi faccio vedere come chiudere i lati che invece restano singoli. Molto semplicemente dobbiamo caricare 5 asoline, 1, 2, 3, 4 e 5 e le spostiamo verso il fondo dell'uncinetto e ne carichiamo altre 5, 1, 2, 3, 4 e 5. In questo modo vedete che ho i due blocchi, prendo il primo blocco e lo allargo in questo modo e col primo passo all'interno del secondo, ovvero scusatemi, con il blocco che ho davanti sull'uncinetto passo all'interno di quello che ho dietro, così e lascio andare. Adesso ne carico altre 5, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo col blocco che ho davanti passo all'interno di quello che ho dietro, in questo modo, ancora, ne carico altre 5, 1, 2, 3, 4 e 5 e con quelle che ho davanti passo all'interno di quelle che ho dietro, così e lascio cadere. E vedete che si crea questa treccina, ancora. E proseguo così per tutto questo laterale. Una volta, io devo ancora attaccare una striscia, facciamo finta che voi l'avete già attaccata, una volta comunque che avete finito la vostra striscia da un lato, in questo modo, che è intrecciato singolo, dobbiamo andare a inserirci con l'uncinetto all'interno con delle maglie basse per proseguire la lavorazione della nostra sciarpa. Allora, vedete che l'anello è perfettamente diviso a metà, no? Questo unnellino, vedete che si dividono perfettamente a metà. Quindi, voi dovete fare il cappio sull'uncinetto con il filo, vi inserite nella prima metà dell'anello con una maglia bassissima. Quindi, in questo modo. Dopodiché, all'interno di questo anello andiamo a lavorare una, due, tre, quattro, maglie basse. Adesso mi inserisco nella metà dell'anello successivo e vado a lavorare una, due, tre e quattro maglie basse. In questo modo. Adesso di nuovo mi sposto nella metà dell'anello successivo. Quindi, una, due, tre e quattro. Di nuovo mi sposto. Una, due, tre e quattro. E proseguo così per tutta la lunghezza della mia sciarpa. Una volta arrivati in cima, voltiamo il lavoro. Andiamo a fare tre catenelle. Una, due e tre. E per ogni maglia bassa sottostante io adesso vado a lavorare una maglia alta. Vedete? Semplicemente vado a lavorare una maglia alta per ogni maglia bassa sottostante. E continuerò in questo modo a fare tanti giri quanto poi voglio tenere larga la mia sciarpa. Quindi faremo, ad esempio, dieci giri da questo lato e poi dieci giri dall'altro. Adesso ho detto dieci come numero indicativo. Vi farò sapere quanti giri poi ho realizzato. Perché al momento non ho ancora attaccato neanche l'altra parte, l'altra striscia della forcella. Quindi mi viene difficile calcolarlo. Ma ve lo faccio sapere subito, subito, subito qua sopra. Ve lo dico. Quindi, innanzitutto, proseguiamo così a lavorare le nostre maglie alte. Una, appunto, per ogni maglia bassa sottostante. E dopodiché, quindi, dovrete ripetere la stessa operazione anche dall'altro lato. Quindi quando avrete unito tutta la vostra forcella dovete lavorare quattro maglie basse per ogni anello. E poi i giri di maglia alta. Allora, guardate, ho terminato sia di intrecciare le mie parti di forcella e sia di fare il bordino maglia alta ai lati. E questo è il risultato finale, venute a una sciarpa di queste dimensioni. Allora, alla fine ho realizzato quattro giri di maglia alta da una parte e dall'altra. Quindi quattro giri, prendendo poi le maglie e intrecciando le tre strisce che avevamo fatto inizialmente. Quindi questo, appunto, è il risultato. Io sono molto soddisfatta, spero che vi piaccia. Adesso, come ultima cosa, vi farò ancora vedere come andare ad attaccare le frange da entrambi i lati. Per realizzare le frange vi occorre un cartone, un pezzo di plastica, quello che avete in casa. Io ho trovato questo cartone alto 10 cm, quindi qui l'altezza alto 10 cm. Dopodiché vi occorre ancora la lana nel vostro gomitolo. Dovete prendere appunto il gomitolo che avete avanzato e dovete avvolgere la lana sul cartone. Una volta che avete avvolto un po' di fili sul vostro cartone, dobbiamo tagliare così e poi tagliare anche un'estremità. In questo modo da ottenere una mazzetta di fili. Da questa mazzetta dobbiamo andarne a prendere 6. Quindi ne contiamo 3, 4, 5, 6. Li dobbiamo mettere tutti alla stessa altezza ovviamente. In questo modo. E questa è una nostra frangia. Adesso prendiamo la nostra sciarpa e l'uncinetto. Quindi un'estremità qui della nostra sciarpa. Teniamo sempre in una mano le nostre frange. Con l'uncinetto ci inseriamo nel punto esatto in cui vogliamo far partire la nostra frangia. Quindi io in questo caso in queste estremità. Dopodiché ci metto sopra le mie frangette piegate a metà. in questo modo e le faccio passare con l'uncinetto all'interno dell'asolina che mi sono creata. In questo modo. Dopodiché faccio passare poco per volta in modo che si crei quest'asola un pochino abbondante. Perché all'interno di quest'asola devono passare tutti gli altri fili. Quindi vedete? Qui ho gli altri fili e li faccio passare all'interno di quest'asola. Diciamo le codine. Passano all'interno di quest'asola. Tiro. Si forma il nodino. E abbiamo realizzato la nostra prima frangetta. Adesso prendiamo di nuovo il nostro mucchio. E contiamo altri 6 fili. Li pieghiamo di nuovo a metà e li teniamo con una mano. Con l'altra ci andiamo a inserire con l'uncinetto poco distanti. Qua così. Prendiamo le nostre asoline. I nostri fili. Così li facciamo passare attraverso il punto. E tiriamo fuori una parte in modo che si crei quest'asola. Vedete che si crea un'asola all'interno della quale dobbiamo far passare l'altra estremità dei nostri fili. Ovvero le codine. Così. Dopodiché tiriamo. E voilà. Abbiamo realizzato la nostra seconda frangetta. E proseguiamo in questo modo. Quindi adesso di nuovo prendiamo altri 6 fili. Ci inseriamo in un punto poco distante qua. Di nuovo facciamo passare i nostri fili all'interno del punto. creiamo, tiriamo fuori in modo da creare questa asolina un po' grande. E all'interno ci facciamo passare tutti i punti, tutti i nostri fili restanti. Quindi così. E poi tiriamo. E voilà. Si crea il nodo. E abbiamo un'altra frangetta. E dobbiamo proseguire così per tutto questo lato e per tutto il successivo. Una volta che avete pissato tutte le frangette in fila, dopodiché tagliamo e ugualizziamo la lunghezza delle frange. Ok? Ovviamente non vi ho detto prima che se voi volete fare le frange più lunghe o più corte potete regolarvi e cambiare l'altezza del vostro cartone. Quindi invece di essere 10 cm potrebbe essere 8 cm per farle più corte, 12 cm per farle più lunghe. Quindi vedete un po' voi in base ai vostri gusti e alle vostre esigenze. Guardate, ho terminato anche di realizzare le mie frange da entrambi i lati. Da questo lato qua mi sono rimaste più chiare, dall'altro un po' più scuro. Però tra l'altro mi sono stata anche fortunata perché da questo lato appunto avevo la lana che finiva scura e da questo invece un po' più chiara. Quindi va anche bene che le frange rispecchino la lavorazione di sopra. Comunque questo è il risultato finale. È una sciarpa che a me piace da impazzire. Spero che piaccia anche a voi perché con questo intreccio della forcella resta soffice, un po' bucata ma non troppo. Non lo so, mi piace, ha un'aggiunta, un qualcosa di particolare che io veramente adoro. Già l'anno scorso avevo realizzato uno scaldacollo interamente fatto con strisce di forcella senza la lavorazione dell'uncinetto, sempre con questa lana ed era stato magnifico. Ma devo dirvi che la sciarpa mi piace addirittura di più. Quindi io sono veramente soddisfatta del risultato. Spero che anche a voi piaccia. Se provate a realizzarla, come sempre, mandatemi le foto sul gruppo di Facebook Mari e le mie concinettine. Io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!